Ciao amici, dal mio studio un capitolo delle videoconsulenze. Mi raccomando, mandatemi le vostre videodomande a questo numero che vedete in sovraimpressione e io le pubblicherò sul mio canale e vi risponderò. Questa è la legge. Avvocato, buongiorno. Sono tutore legale di mia sorella. Da molti anni ho attivato una polizza vita ad accumulo di capitale a suo nome e ho già investito quattro volte le discrete somme con ovviamente l'autorizzazione dei giudici tutelari del momento. La formula è sempre stata la stessa. Visto si autorizza efficacia immediata, senza bisogno di altre domande. Adesso ho fatto di nuovo un ricorso al presente giudice tutelare, al giudice tutelare di adesso, era la metà di novembre. A gennaio non avevo cosa ricevuto risposta, quindi mi sono permesso di fare un sollecito. La risposta che ho ricevuto è stata la richiesta di una perizia redatta o da un professionista commercialista o da un esperto di finanza in grado di spiegare tutti i rischi e i vantaggi dell'investimento. Ho preparato la perizia, l'ho fatta fare, l'ho inviata, era alla fine di febbraio, siamo a metà aprile e non ho ancora ricevuto una risposta. La mia domanda è la seguente. Esiste un termine di legge, un tempo, entro il quale il giudice tutelare è costretto e deve rispondere ad un'interpellanza? Grazie. Questa è la legge. Come impugnare una multa per autovelox. Sì, quanti motivi di ricorso. La multa ti deve arrivare a casa entro 90 giorni e sul verbale deve essere indicata la data dell'ultima taratura che non può essere anteriore di oltre un anno. Tutto questo è molto altro su La Legge per Tutti, il libro che ti spiega i tuoi diritti e i tuoi doveri. Lo puoi trovare in tutte le librerie e anche su Amazon. Questa è la legge. Tutto il nostro codice di procedura civile è pieno zeppo di termini. Abbiamo termini per il deposito degli atti processuali a firma degli avvocati, termini per le notifiche a cura degli ufficiali giudiziari, termini per le emissioni delle sentenze, termini per le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni da parte del giudice, insomma, chi più ne ha più ne metta. Sarà però capitata a molti di notare che se un avvocato sbaglia un termine e compie un'attività anche con un solo giorno di ritardo, ma che dico un giorno o un'ora, al suo errore non c'è rimedio. Scatta la decadenza senza alcuna possibilità di perdono, salvo la prova di un'impossibilità oggettiva. Eravate in coma all'ospedale. Quando però, a prendere tempo e il magistrato, le cose cambiano completamente. Come mai i tempi per la decisione del giudice non vengono quasi mai rispettati e come bisogna comportarsi in questi casi? Ci sono parti che aspettano quasi un anno per una sentenza, nonostante il codice di procedura civile stabilisca un termine di solo 30 giorni per il primo grado. Ci sono poi decisioni in riserva che per essere sciolte richiedono una pazienza certosina, senza parlare delle autorizzazioni dei giudici tutelari che se in alcuni casi giungono nel giro di una settimana, in altri richiedono mesi. Perché tutta questa varietà nei tempi per le decisioni del giudice? La ragione, o la colpa, sta nell'interpretazione che i giudici stessi hanno dato al codice di procedura e a tutte le norme che appunto fissano dei termini ai giudici. Secondo infatti la giurisprudenza, il mancato rispetto di questi termini da parte di un magistrato non determina alcuna conseguenza sul processo, sarebbe il colmo del resto che per il ritardo del giudice ne debbano rispondere le parti, né comporta la possibilità di rivalersi contro il giudice o contro lo Stato chiedendo una forma di risarcimento. In buona sostanza tutto si gioca sulla natura del termine, che a norma dell'articolo 152 del codice di procedura civile può essere di due tipi. Abbiamo i termini perentori da un lato e i termini ordinatori dall'altro. I termini perentori sono quelli il cui mancato rispetto determina la decadenza dalla possibilità di compiere un'attività processuale. Guarda caso, sono perentori quasi tutti i termini previsti per le parti al fine di garantire un processo celere ed efficace. I termini ordinatori invece sono quelli la cui violazione non implica alcuna conseguenza, come ad esempio i termini per il deposito della sentenza, per la fissazione delle udienze in corso di causa e così via. Ebbene, si ritengono ordinatori tutti quei termini che non sono dichiarati perentori dalla legge o dal giudice. Ed ecco perché, mancando un'esplicita previsione nelle norme del codice di procedura civile della perentorietà dei termini in capo al giudice, ecco che se questi fa ritardo non c'è modo di tutelarsi. La giustificazione viene attribuita all'enorme carico di lavoro che grava sui magistrati e da cui il Ministero, per ragioni di bilancio, non è mai riuscito a far fronte con l'assunzione di nuovo personale, ragion per cui bisogna accontentarsi delle risorse che si hanno, le quali però hanno pur sempre 24 ore, come tutte le altre persone. E siccome non è possibile prevedere quante cause in un determinato periodo verranno iscritte nei registri dei tribunali, non si può neanche accordare ai giudici la responsabilità per eventuali ritardi nelle decisioni. Ecco la ragione, almeno quella formale, per cui i termini per le sentenze, autorizzazioni, decreti e ordinanze dei giudici non sono perentori. C'è chiaramente la possibilità di presentare un sollecito al magistrato che, tuttavia, in assenza di valide e documentate motivazioni, potrebbe anche sortire un effetto contrario. Si tenga peraltro conto che, secondo la Cassazione a sezioni unite, anche laddove il ritardo del magistrato sia particolarmente elevato, per esempio, addirittura a svariati mesi, fin anche un anno, non si configura alcun illecito disciplinare. Questo perché una sua responsabilità potrebbe sussistere solo nel caso in cui si sia in presenza di una reiterazione continua nei ritardi e questi superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza. È chiaro che, stando così le cose, è del tutto impossibile fare delle previsioni sulla data anche approssimativa in cui potrebbe uscire una sentenza. Ecco perché spesso si dice che in tribunale, così come in ospedale, si sa quando si entra, ma non si sa quando e come se ne esce. Abbiamo finito anche questo capitolo delle videoconsulenze. Mi raccomando, ricordate il numero in sovrimpressione per mandarmi i vostri quesiti, ricordatevi che li pubblicherò su questo canale insieme alla mia videorisposta e non dimenticate la parola magica. Bravi, questa è la legge. Questa è la legge! Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge!